ciao e bentornato dopo aver parlato delle base di photoshop quindi dei livelli e del concetto di maschera di livello passiamo ora un altro concetto molto importante per la fotografia di paesaggio che sono le maschere di luminosità queste maschere sono un tipo particolare praticamente di maschere di livello quindi ci permettono di agire su determinate zone dell'immagine l'unica differenza rispetto a prima che in questo caso la selezione non la facciamo noi manualmente ma viene fatta automaticamente dal computer quindi dal software la selezione in questo caso viene fatta appunto sulla base della luminosità quindi su una scala dei grigi quindi un concetto molto analogo a quello che abbiamo visto con il concetto di zona azione quando abbiamo parlato di Hansel Adams quindi andremo applicare questo concetto nella fase di post produzione usando appunto queste maschere di luminosità e dividendo la scena in tante piccole zone basate appunto sulla luminosità vediamo quindi come fare andiamo su canali abbiamo rgb rosso verde blu andiamo qua su rgb e teniamo premuto il tasto command vedi che compare questo quadrato tratteggiato clicchiamo e appare questa selezione questa selezione non è altro che tutte le zone dell'immagine che sono superiori al 50 per cento del grigio quindi le zone più luminose per salvare questa selezione quindi questa maschera andiamo qua sotto e salviamo la nostra selezione vedi che compare un nuovo canale che possiamo chiamare in questo caso luci 1 perché appunto è riferito alle luci sono tutte quelle zone dell'immagine grigio superiore al 50 per cento ma ovviamente per fare un buon lavoro non ci basta solo questa maschera di luminosità dobbiamo creare delle altre per creare un'altra maschera di luminosità per quanto riguarda le luci andando a stringere appunto il campo andiamo sull'ultima maschera creata con la combinazione di tasti command o control a seconda del sistema operativo maiuscolo alt e vedi che compare questa x all'interno del quadrato tratteggiato perché vuol dire che creeremo intersezione di questa maschera andando a restringere appunto il campo clicchiamo col tasto sinistro del mouse sempre con la combinazione dei tasti premuta e vedi che viene ristretta sull'immagine questa selezione in questo caso abbiamo tutti i grigi superiori al 75 per cento andiamo di nuovo a salvare come prima e lo chiameremo in questo caso luci 2 quindi abbiamo due maschere luci 1 con questa selezione e luci 2 con questa selezione generalmente i fotografi professionisti fanno 4 5 o 6 e maschere di luminosità per le luci noi adesso ne facciamo due per praticità tanto hai capito il concetto bisogna semplicemente ripetere queste operazioni che ho appena descritto vediamo adesso come creare le maschere di luminosità per le ombre in maniera molto semplice andiamo sulla prima creata per la luce le selezioniamo tutto col command d e la trasciniamo sul più qua sotto e abbiamo vedi luci una coppia ovviamente le ombre sono l'opposto delle luci qui ci basterà semplicemente invertire questa maschera tenendo la selezionata command d o controlli ed ecco qua abbiamo la nostra maschera per le ombre ombre 1 vedi che la maschera completamente diversa rispetto a prima ricordi che le zone più chiare dell'immagine sono dove andrà influire quella maschera dove andrà ad agire mentre le zone scure sono dove non andrà ad agire infatti ovviamente nelle ombre andrà ad agire su tutte le zone d'ombra per creare un'altra maschera delle ombre semplicemente di nuovo trasciniamo luci 2 sul più invertiamo e abbiamo la nostra nuova maschera ombre 2 ovviamente analogamente quanto detto per le luci dovremmo creare 5 6 maschere anche per le ombre in maniera del tutto una regola come ho fatto adesso adesso andiamo a creare anche le maschere per quanto riguarda i mezzi toni perché sono ovviamente presenti in tutte le immagini in maniera leggermente diversa rispetto prima andiamo a selezionare rgb command a o controlla e andiamo a selezionare tutta l'immagine vedi che la selezione circonda l'immagine e adesso con la combinazione di tasti command o contro la seconda del sistema operativo più alte ovviamente con il mouse sempre su qua sui canali vedi che compare il tasto meno quindi andremo a togliere questa selezione le luci luci 1 e sempre tenendo premuto andremo a togliere le ombre ovviamente ombre 1 non ombre 2 andremo a togliere sempre quelle con lo stesso numero togliendo luci e togliendo ombre rimangono i mezzi toni clicchiamo e ti appare questa avvertenza tralasciala pure perché comunque il software sta lavorando lo stesso hai la tua selezione anche se non è presente per limiti del software e vai a creare come abbiamo visto sia per le luci che per le ombre la tua maschera per i mezzi toni ed eccola qua alfa 1 vedi completamente diversa anche dalle altre perché andrà a girare più o meno su tutta l'immagine in maniera omogenea vedi tutto grigio grigio bianco e la chiameremo mezzi toni 1 ovviamente possiamo creare anche mezzi toni 2 analogamente quanto abbiamo fatto adesso ma adesso non ci interessa più di tanto quindi abbiamo le nostre maschere luci 1 luci 2 ombre 1 ombre 2 mezzi toni vediamo adesso come utilizzarle perché ce l'abbiamo sui canali per esempio vogliamo agire non so sulle luci vediamo intanto le luci sulle luci per esempio luci 2 andare ad agire su questa zona qua quindi attiviamo la selezione andando su questo cerchio di atteggiato vedi che si attiva andiamo sui livelli andiamo sul livello di regolazione e creiamo per esempio un livello di esposizione vedi che si crea un livello di regolazione troviamo questo si vede si attiva un livello di regolazione con la stessa maschera le luci quindi ovviamente andando ad agire adesso sull'esposizione guarda l'aumento al massimo andiamo a agire solo su questa zona qua diminuendo andiamo a agire in maniera evidente vedi solo su queste zone poi ovviamente un po' su tutto abbassandola tanto però principalmente su quelle zone infatti vedi che se tolgo l'occhiolino e compare l'immagine sotto il cambiamento è solo in quelle zone principalmente quindi capisci bene la potenza di queste maschere non so per esempio vogliamo adesso mettere le ombre quindi ombre 1 attiviamo la selezione torniamo nei livelli attiviamo di nuovo un livello di esposizione e abbiamo questa volta la maschera delle ombre quindi quando noi andremo ad aumentare l'esposizione questa volta agirà ombre 1 quindi agirà su tutte le ombre presenti in scena quindi da questo semplice esempio queste semplici regolazioni un po' fatte a caso puoi capire bene l'importanza e la grande potenza di queste maschere di luminosità che ti permettono di andare agire veramente nel dettaglio ovviamente quando ne abbiamo 4 5 sai come vedremo nella prossima lezione di andiamo a dire nel dettaglio in ogni singola parte della fotografia basandoti solo sulla luminosità bene adesso che ti ho fatto vedere come funzionano e come creare queste maschere di luminosità andiamo un attimo a cancellare tutto quello che abbiamo creato un secondo perché online esistono comunque delle scorciatoie praticamente delle azioni che possono essere salvate su photoshop e ti permettono di creare in automatico le maschere di luminosità per ogni fotografia senza doverle fare per ogni immagine come abbiamo fatto adesso che hai visto un procedimento abbastanza lungo e noioso da un lato uno dei plugin gratuiti secondo me migliori che puoi utilizzare è quello realizzato da Jimmy McCantyre spero di aver detto giusto un fotografo di viaggi abbastanza famoso in cui ti lascio ovviamente il link nel sito e la possibilità di iscriverti alla sua newsletter e ti darà in regalo questo pannello molto semplice da utilizzare sono comunque anche dei tutorial che ti permetterà di creare le tue maschere di luminosità sia per quanto riguarda le luci le ombre e i mezzi toni in un secondo e adesso ti faccio vedere velocemente come una volta installato questo easy panel in maniera molto semplice lui ti spiega come vediamo per esempio qua le maschere di luminosità per le luci 16 bit per le ombre 16 bit e per i mezzi toni a 16 bit e ne abbiamo 6 per ogni classe quindi una bella quantità ti basterà sicuramente cliccare qua sopra e appaieranno direttamente nei livelli e non nei canali le tue maschere di luminosità quindi non dovrai fare niente sono già applicabili e vedi che sono qua per esempio 1 2 luce 1 luce 2 andrà sempre a scurirsi sempre di più luce 4 luce 5 e luce 6 qua potrai cancellarle analogamente le dark 4 5 e 6 e anche i mezzi toni vediamo quindi velocemente come applicare queste maschere poi comunque lo vedremo anche dopo per esempio se noi vogliamo creare il nostro livello di regolazione come abbiamo fatto prima creiamo un livello di curve questa volta e andiamo a lavorare a caso ovviamente sul verde aumentiamo il verde e ovviamente aumenta su tutta l'immagine ma se noi andiamo a togliere tasto destro andiamo a cliccare qua sui livelli sulla nostra maschera qua a fianco bianca andiamo eliminare la maschera di livello quindi andiamo qua sulle maschere di luminosità per quanto riguarda le ombre 1 2 3 4 ti basterà semplicemente cliccare su apple maschera e verrà applicata all'ultimo livello vedi quindi in questo caso il nostro cambiamento viene applicato solo alcune zone dell'immagine in questo caso alle ombre quindi visto come semplice applicare esattamente come abbiamo visto prima le nostre maschere a solo determinate zone facciamo un altro esempio quindi non solo questa volta vogliamo intervenire sull'esposizione che è bella evidente vogliamo aumentare l'esposizione adesso lo mettiamo su tutta la scena perché qua abbiamo una maschera di livello bianca tasto destro eliminiamo la nostra maschera di livello prendo un livello a caso tanto adesso non stiamo facendo regolazioni fini noi vedremo nella prossima lezione prendo 3 apple maschera ed ecco qua la nostra applicazione la nostra esposizione applicata ovviamente maggiormente nelle zone di luce e meno in quelle di ombra poi regolando l'esposizione un po' meglio si va a vedere dove va a influire e vedi che è solo praticamente nelle zone di luce e meno ovviamente in quelle zone di ombra bene con questa lezione abbiamo finito dovreste aver capito cosa sono le maschere di luminosità e più o meno come utilizzarle non ti preoccupare se per ora non è tutto chiaro andiamo sempre per gradi come giusto che sia nella prossima lezione ne approfondiremo proprio questi concetti